Unione Europea è in grave difficoltà, una crisi istituzionale che rischia di affondare anche quella che è stata la richiesta di forte cambiamento che i cittadini hanno fatto non solo nelle elezioni del 26 maggio di quest'anno, ma che vediamo ciclicamente ripetersi in tutte le elezioni nazionali, con l'ascesa delle forze identitarie e il supporto a questi partiti che propongono una visione d'Europa diversa. Quello che noi stiamo dicendo fortemente alla nuova Presidente della Commissione, alla nuova Commissione che probabilmente si inserirà con ritardo a dicembre, è quello che se continuiamo a proseguire, a perseguire le vecchie politiche distruttive, l'Europa rischia molto, l'Europa rischia di rimanere indietro e di diventare ovviamente un problema non solo per i cittadini europei, ma per tutto il mondo. Non c'è crescita, non riusciamo a garantire sicurezza ai nostri cittadini e non riusciamo a risolvere e a controllare il problema dell'immigrazione clandestina. Oggi la Commissione e le istituzioni europee ancora non sono in grado di dare queste risposte. La nostra proposta è un'Europa che riparta dagli Stati e non da un'omologazione forzata per legge da una centralizzazione a Bruxelles, che riporti il continente alla crescita, che riporti sicurezza e che risolva una volta per tutte il problema dell'immigrazione clandestina, non con la ridistribuzione ma con il blocco delle frontiere.